Siamo in aperta campagna a San Giustino Valdano ma sotto il campanile ci troviamo nel retro dell'oratorio alle nostre spalle un campo dove troneggiano gli olivi. Ecco è proprio questa l'atmosfera e la location giusta per rivivere la passione di Gesù. Il 29 marzo è un'idea nata dai giovani della comunità parrocchiale di San Giustino Valdano Quest'idea nasce all'interno di un progetto che portiamo avanti anche durante gli altri mesi dell'anno non solo in quaresima con i giovani dove facciamo varie attività sempre a livello parrocchiale. Circa due anni fa eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje insieme ai giovani della misericordia abbiamo avvertito questa esigenza diciamo di fare qualcosa per il venerdì santo. Vogliamo a questi ragazzi fargli vivere allo stesso tempo, far testimoniare loro quelle che sono state le ultime ore di nostro Signore prima della resurrezione. Quindi una trentina di giovani coinvolti che daranno vita a questa rappresentazione e da qui ci sarà proprio, Genevra, il processo di Pilato a Gesù. Sì, qui c'è il palco appunto ancora in allestimento per il processo e poi ci sarà la crocifizione davanti alla piazza della Chiesa dove ci saranno appunto gli ultimi momenti di vita di Cristo. E noi parliamo con chi rappresenterà la Madonna in questa manifestazione? Quando Michele appunto mi ha detto che avrei avuto questo ruolo è stato un po' un colpo diciamo perché è un ruolo importante e deve essere fatto con lavoro, bisogna lavorarci e anche con molto impegno bisogna sentirselo più che altro. Noi ecco non ci nascondiamo a dirlo che questo deve essere uno strumento di evangelizzazione perché le rappresentazioni che vogliamo fare devono essere un annuncio per testimoniare un po' alla gente quello che ha sofferto il nostro Signore per noi. Da qui partirà anche una bella processione per le vie del paese? Partirà la classica poi processione paesana all'interno per le strade del paese dove cercheremo di allestirla anche in un clima suggestivo con varie illuminazioni ma anche fiaccole, fuochi, quindi cercare di creare un clima bello ma allo stesso tempo che dia l'opportunità di meditare.